Qui abbiamo il numero 35, il 3 è nel posto delle decine e rappresenta 30, ovvero appunto 3 decine che sono queste file qui, ognuno con 10 quadratini, che fa appunto 30. Il 5 invece è nel posto delle unità, quindi rappresenta 5 unità, 1, 2, 3, 4, 5 quadratini. Ora vogliamo prendere questo 35 e sommargli 6 unità che sono rappresentate qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ti consiglio di mettere in pausa il video e provare a risolvere questa dizione da solo. Ora però facciamola insieme. Allora, iniziamo con le unità. Ho 5 unità e ne devo sommare altre 6. Quanto fa? Beh, 5 più 6 fa 11 unità e mi rimangono le decine. Quindi possiamo dire che 35 più 6 fa 3 decine più 11 unità. Ma non posso mica scrivere un numero a due cifre in una sola colonna? Altrimenti verrebbe fuori che 35 più 6 fa 311. Come faccio quindi a scrivere il numero a parole in modo poi da avere una sola cifra qui, appunto, nelle unità per metterla poi nell'addizione in colonna? Qui posso avere delle cifre che vanno da 0 a 9, appunto con una sola cifra. Quindi, osserviamo, osserviamo che abbiamo abbastanza unità da fare una decina. Quindi ne prendo 10 dalle mie unità e le faccio diventare una decina. Ecco, facciamo il copio e incolla. Quindi adesso ho una decina in più. Ho preso questi 10, queste 10 unità, e li ho raggruppati, ho raggruppato i quadratini in un nuovo gruppo da 10. Quindi cosa abbiamo? Raggruppandoli così abbiamo 4 decine, e lo scriviamo, 4 decine più quante unità? Beh, 10 le abbiamo impegnate per fare una nuova decina, quindi c'è rimasta questa sola unità. Quindi ho 4 decine più 1 unità, che è uguale a 3 decine più 11 unità, sono equivalenti. Possiamo quindi scriverlo così, 1 unità e 4 decine. Ora, il disegno ci ha aiutato molto, come avremmo potuto fare se non avessimo avuto il disegno? A parte fare lo stesso processo a mente, un altro modo di fare consiste nel considerare che 5 più 6 fa 11. Ma 11 non ci entra in una sola colonna. E quindi devo pensare allo appunto come una decina e una unità. Ecco qui. A volte si dice 5 più 6 fa 11 e riporto sopra il 3, sopra la testa del 3. 5 più 6 è una decina e una unità. Per questo c'è il riporto. Perché, guarda, 11 ha una decina e una unità. Quindi noi andiamo a sommare le unità con le unità e le decine con le decine. Ed ecco che appunto sommiamo le decine più le decine, quindi 3 più 1 fa 4. Riflettete su ciò che abbiamo fatto. Noi stiamo meccanicamente sommando il primo 1 di 11 nella colonna delle decine e l'altro nella colonna delle unità. Lo fate perché avete ragionato e avete raggruppato le unità facendole diventare una decina. Ecco qui. Ne ha avanzato uno solo, quindi è questo 1 qui. Tutti gli altri sono finiti nella colonna delle decine.